Gira, gira, gira! Gira! Ha cambiato scarpe, Ongel? Non so. No, no, c'è sempre quella. No, no, cambiati. Gioca! Gioca, Gioca! Gioca, Gioca, Angelo! Gioca, Angelo! Grazie a tutti. 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 Va bene. Grazie a tutti. Bello. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. la stagione. a tutti. 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 grazie a tutti. 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 sta bene. bravo. bravi, bravo. bravi, bravi. Ha fatto bene. Ci va la castagna. Dobbiamo fare almeno il terzo, non tocco. Almeno il terzo lo dobbiamo fare. dobbiamo fare il terzo un po' vai vai 11 minuti facciamo 1 o 2 e andiamo via facciamo ancora 1 no ora te dentro non vogliamo frisamare gioco bravo adesso vai stai nervoso questo sta nervoso questo sta nervoso stai 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 ragazzi siamo lunghi siamo lunghi stai 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 7 minuti 7 minuti 9 e 10 è fettusello ecco quello lì comunque fettusel l'oro ma io ma l'orologio ve l'ho regalato per niente 5 minuti più recupero no non è fuori gioco si gabri si 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 confondono chi la belta tanto malattie non c'è no no se le segnalo dentro noi noi vieni Luca vieni Luca vieni con cosa è fatto male Luca 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 vieni via mettiti a posto gira 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 l'hanno chiamata la federazione della conseguenza di metà come vittore torna 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 aiutalo buona buona